Se hai un negozio di animali o una clinica veterinaria dove vendi cibo per cani, questa informazione, senza dubbio, ti interessa. Se vogliamo competere, non è sufficiente per essere bravi. Dobbiamo essere i migliori, e dobbiamo essere diversi. In uno stormo di gabbiani ce ne saranno sicuramente dei più intelligenti, forti, immuni e con tante altre qualità. Ma se a prima vista vediamo solo uno stormo uniforme, per l'osservatore saranno tutti gabbiani uguali tra loro. Strillare più forte dell'altro o competere con una strategia diversa. In questo senso, Wolves Legacy separa dal tutto. Ha delle caratteristiche, che lo rendono unico rispetto al resto. Quando tutti i marchi parlano di lupi, usano immagini di lupi, usano le parole lupo, istinto, selvaggio e altri nei loro marchi, Wolves Legacy ha un branco di lupi e cani lupi al loro quartier generale di sviluppo. Quando tutti i marchi danno consigli e suggerimenti su nutrizione e istruzione ai propri clienti, Wolves Legacy ha un'accademia che rilascia certificati approvati. Quando tutti i marchi si sforzano di imprimere nella mente del consumatore di essere quelli con più amore per i cani, Wolves Legacy si basa su una storia, che registra quelle emozioni attraverso il potere di memoria della narrazione. In un mercato altamente competitivo in tutte le aree, avendo Wolves Legacy, è tutto.